Aiaiaiai Si presentino al tatami 1 per la kick light, angolo rosso Giancarlo Alessio, angolo blu Gilly Mattia Sto tenendo per Marco Oh Stop Stop S'ha riprovato, s'ha riprovato Hai capito? Oh Che spettacolo Ragazzi è rimasto poco a tutta, forza Stop Coronel col tempo Col tempo Vai Stop Stop I I I I I I I grazie